Calaio, il suo ex giocatore a Pescara, Calaio si gira, pallabuona per Pia in area di rigore, Pia viene fermato, poi c'è Clamoros autogol, Clamoros autogol, Napoli in vantaggio, azione tutta del brasiliano Pia e poi la difesa del mattina ha commesso un vero e proprio pasticcio, Napoli in vantaggio, il gol naturalmente non può essere di Pia che però tutto mascherato va a festeggiare. Da parte, ecco l'ora rivediamo quello che è successo, Calaio, buona l'azione di Calaio che serve in mezzo Pia, Pia va via in velocità e poi guardate, l'ultimo tocco è proprio di Pia, si è toccato a lui per lui. In fase difensiva, in interdizione, attenzione Pia e la parata di Indiveri, grande occasione per Pia. La palla ha rimbalzato davanti al portiere e per Indiveri è stato molto semplice riuscire a parare. Da Silva, poi Giubilato l'errore, attenzione ancora da Silva, da Silva cerca l'azione personale ed il destro altissimo. Da Silva la conclusione è uscita da un disimpegno sbagliato di Giubilato mi pare.